Ehi merlo, sei in onda, il leone si addormenta, e di una ru gira, dacci dentro pumba, il merlo è palatissimo, sono madre Teresa di Calcutta, più che di Calcutta, vengo in pace, e tu ce la vedi madre Teresa qui, adesso mi trasformerò in, Super Saiyan, e lui, cosa sta combinando, questo essere ignobile, sta pianificando l'attentato, che cosa hai? Non comprendo, devi smettere di fare un video, tu sei l'unico sabre, allora, questo qua, qua dentro, lì, le grosse, le bo, e poi le pienissime, No no, Cristian lei mi ha chiamato dall'alberotto , eeeh chi è? Chi è Cristian? D'altro ma come quel Sciences? Compara Savile? Non se non ha acqua calda ci falde? No Sì, funziona Grazie.